Anche Mirabella si prepara ad accogliere famiglie afghane sul tavolo del comune che gestisce direttamente l'accoglienza, l'accordo con la prefettura di Avellino per ospitare cittadini afghani. Man mano che scadono i dieci giorni di quarantena delle famiglie all'ospedale del mare di Napoli, c'è l'assegnazione delle strutture di accoglienza. Al Covid Residence anche i controlli sanitari e la vaccinazione anti-Covid. La convenzione con l'ufficio territoriale del governo per il comune di Mirabella durerà un anno. A fianco dell'ente nel percorso di accoglienza e di integrazione le associazioni di volontariato del posto. Nessun arrivo nella giornata di oggi. Il nucleo familiare atteso a Mirabella e composto da donne e bambini per una questione di ricongiungimento tra i componenti è stato accolto nella capitale. Gli arrivi sono previsti per la prossima settimana. Intanto in Irpinia si lavora ad un programma unico di gestione dell'accoglienza. Noi abbiamo individuato un appartamento, una villetta, una casa singola che stiamo attrezzando. Siccome parliamo di famiglie molto numerose è necessario avere molti posti letto. Sottoscriviamo questo accordo direttamente con la prefettura perché noi a Mirabella e Clà non abbiamo nessun centro di accoglienza, nessun SPRAR. Quindi l'accordo è direttamente con la prefettura dove noi poi successivamente ci avvarremo della collaborazione dell'AMPAS e della misericordia qui locale. Faremo la settimana prossima un incontro con la dottoressa Fico in prefettura, con tutti i comuni che stanno ospitando i profughi per creare un programma unitario di gestione. Ovvio che innanzitutto c'è il vitto e c'è l'alloggio. Poi tutti quei servizi aggiuntivi li decideremo la settimana prossima in prefettura perché i profughi afghani sono un pochettino diversi rispetto ai profughi che comunemente raggiungono l'Italia con i gommoni. Mi faceva notare la prefettura che queste persone giustamente non sono qui per loro scelta ma sono state costrette a lasciare il paese di origine e quindi vivono in una condizione un pochettino diversa.